buongiorno alunni e alunne ci ritroviamo ecco qui ormai in un luogo che potremmo dire per noi quotidiano nella nostra video lezione del giovedì spero che abbiate passato delle buone e serene festività pasquali e da oggi ricominciamo il nostro percorso che potremmo anche dire che sta quasi alla conclusione perché il programma di arte non è poi così distante il punto di arrivo insomma stiamo quasi per terminare le nostre lezioni per poi poterci dedicare agli approfondimenti personali che ci porteranno all'esame di conclusivo allora qual è l'argomento che affronteremo oggi è un argomento nuovo si chiama metafisica ed è una corrente artistica che è nata nel periodo della prima guerra mondiale in italia la metafisica appunto una corrente totalmente italiana quindi potremmo dire che non si diffonde nelle altre nazioni perché si trasformerà darà la metafisica darà l'input ad altri artisti europei ma che creeranno delle nuove correnti quindi la metafisica ispirerà delle correnti nuove qual è la differenza della metafisica perché dico totalmente nuova perché all'inizio diciamo delle delle avanguardie quando io vi ho spiegato le avanguardie artistiche ve l'ho anche suddivise in due binari in due in due grandi percorsi di ricerca il percorso dell'arte della ricerca razionale logica scientifica in cui si incanalano perfettamente il cubismo l'astrattismo il futurismo e l'altro canale in cui abbiamo affrontato l'espressionismo quindi un'arte interiore un'arte che parte dalle emozioni quindi tutto ciò che è irrazionale ciò che parte dall'emotività ciò che si scaturisce dall'imprevedibilità della nostra mente però una mente interiore appunto una mente intima non una mente razionale ok la metafisica parte appunto da questo oscuro mondo oscuro mondo misterioso della mente umana ricordatevi ricordatevi una cosa che nel all'inizio del 1900 un uomo uno scienziato un medico un che è appunto sigmund freud scrisse un importante saggio che è l'interpretazione dei sogni ok all'inizio del 1900 sigmund freud elabora un percorso una strategia un metodo i principi per riuscire a comprendere l'inconscio cioè quella parte nascosta della nostra mente che ci condiziona nel nell'agire nel carattere nelle nostre paure ciò che appare in un modo sorprendente nei nostri sogni quindi sigmund freud e di questo stiamo parlando stiamo parlando di di un'arte che manifesta quell'incomprensibile fantasioso imprevedibile mondo che è l'appunto la nostra mente interiore allora prima di iniziare cioè come inizieremo a comprendere la metafisica perché la metafisica va compresa ok non è pura vi ricordo non è semplicemente pura fantasia senza senza un nesso il nesso c'è ok ma va compreso va interpretato in te l'interpretazione della metafisica come l'interpretazione di sogni io oggi vi darò sono abituato a spiegare la metafisica con un certo ordine di interpretazione c'è un certo modo una strategia per comprendere i dipinti di di questo artista in particolare che approfondiremo che si chiama giorgio de chirico allora da dove partiremo partiremo dal nostro libro di test ok quindi le pagine che di riferimento che dovete studiare anche per svolgere il test sapete sempre che c'è all'interno di ogni video lezione un test da da svolgere sono le pagine 364 e e appunto 365 e quelle qui due pagine ok il nostro libro presenta la metafisica in queste due pagine ve le illustro velocemente poi avete il tempo di leggerle con attenzione sottolineare le parole chiave andarvi a leggere a suddividere i concetti che vi possano aiutare a fare vuoi uno schema uno schema di studio allora la metafisica innanzitutto ci suggerisce due parole il silenzio e il mistero ok allora il silenzio perché la condizione privilegiata della metafisica un silenzio significa che non parla il silenzio c'è quando non si proferisce parola quando come una potremmo dire una sfinge ci presenta la soluzione ma nel nell'immutabilità del tempo c'è sta lì ma non viene palesemente detta quindi non apparentemente i nostri dipinti della metafisica non parlano stanno in silenzio ma in realtà loro dicono anche con la loro presenza qualche cosa la dicono e come bisogna comprendere che cosa dicono ok è appunto perché sono misteriosi sono misteriosi qual è la condizione lo spiega qui nell'introduzione qual è la condizione che genera che ispira che invita gli artisti alcuni artisti italiani a creare questa nuova corrente ovviamente sono persone artisti che si conoscono che si incontrano e loro decidono di iniziare una ricerca comune come quella dei futuristi ok queste qual è questa condizione è uno sconvolgimento intanto è è la condizione in in cui si trovano queste persone che li porta a a creare questa questa corrente uno sconvolgimento nato dalla guerra mondiale quindi ci sono delle in italia c'è la prima guerra mondiale e alcuni artisti si ritrovano a combattere a combattere proprio in trincea sono soldati soldati che rischiano la loro vita per per appunto come in tutte le guerre non si sa perché il giovane che va che parte in guerra che deve rispondere a un un ordine di uccidere altre persone per quale motivi per motivi politici ok ma lui non li comprende vede soltanto la morte intorno a sé e questo crea una ciò che si dice ciò che si può definire una ferita ma una ferita non diciamo corporea ok non è non non erano ferite da arma da fuoco ma ferite interiori ferite nell'anima ferite nella mente ok erano scossi turbati angosciati ok terrorizzati quindi alcuni soldati nella guerra intrincea della prima guerra mondiale subiscono un trauma vedete le parole che sto usando no tutte cose che ovviamente si possono risolvere attraverso una terapia psicologica oggi è facile ma all'epoca era totalmente nuova questo questo tipo di malattia è questo modo di superare questa malattia cioè il trauma quello che viene chiamato il trauma da trincea i soldati dalla trincea vengono portati in in un ospedale uno il primo ospedale che si trova a ferrara infatti la metafisica nasce appunto nella città di ferrara perché nelle campagne vicino ferrara c'era era sorto un ospedale una clinica ok una clinica che doveva dare un supporto immediato ai giovani che provenivano dalla dall'avanguardia cioè da dove si combatteva senza aver subito un appunto delle ferite di arma da fuoco ma erano incapaci di andare avanti erano stati traumatizzati scossi come quando vi potrebbe essere successo quando spero mai però potrebbe essere successo durante un incidente stradale ok una cosa imprevista sentite che avete potuto rischiare di morire non vi siete fatti niente ma siete scossi traumatizzati guardate il vostro il vostro sguardo è fisso non riuscite a rispondere alle persone che vi parlano e appunto siete appunto sconvolti questa è la condizione quindi chi sono gli artisti sono giorgio de chirico ok che è anche il fondatore anche l'artista che studieremo in particolare alberto savino alberto savino è il fratello di giorgio de chirico infatti il suo nome sarà andrea de chirico giorgio de chirico e andrea de chirico ma in realtà lui si chiamerà alberto savino avrà un nome un appunto uno pseudonimo un nome d'arte ok come può capitare per esempio oggi in un artista per esempio un cantante che ha il suo nome ma poi ha il nome d'arte ok appunto alberto savino era il lo pseudonimo un po miste che crea anche mistero fratello di giorgio de chirico ha scelto uno pseudonimo si firma con un pseudonimo per non confondersi per non rimanere nell'ombra del fratello allora il fratello era talmente grande giorgio de chirico che il fratello per non per non rimanere per non essere ricordato nel tempo come giorgio de chirico è il fratello lui si chiamerà prenderà un altro nome per distinguersi ok e poi eccolo qua eccolo qua io ve l'avevo annunciato in classe e poi anche durante la lezione c'è un artista che è totalmente diverso dai fratelli dei fratelli di chirico cioè carlo carrà carlo carrà era un futurista lo dice anche qui poi lo dirà qui in un certo punto dirà si incontrano nell'ospedale militare di ferrara carlo carrà e giorgio de chirico carlo carrà però noi l'abbiamo conosciuto eccolo qui le iniziative futuriste carlo carrà era un futurista quindi totalmente diverso totalmente altri obiettivi di ricerca era interventista lui amava la guerra la metafisica odia la guerra la ripugna la guerra perché carlo carrà quando si ritrova in ospedale si decide insieme a de chirico di creare di dar vita alla metafisica perché anche lui rimane turbato dall'incomprenza dall'insensata guerra e iniziano a dipingere insieme dentro l'ospedale quindi nell'ospedale nasce nell'ospedale di ferrara l'ospedale dedicato alla malattia nervosa ok al trauma da trincea decidono di dar vita alla metafisica tra questi c'è anche un altro artista che viene scritto qua giorgio morandi giorgio morandi qui ne vediamo un dipinto dipingerà sostanzialmente in un modo decisamente misterioso nature morte infatti quella qui vedi natura morta cioè composizione di oggetti con colori luci vedete qui le ombre lunghe le ombre saranno significative perché sono silenziose misteriose le ombre che illumina in un modo appunto potremmo dire in reale cioè non reale ma in reale questi oggetti dalle forme strane che ci portano a riflettere su un qualche cosa di misterioso ecco il dipinto di carlo carrà capite bene che qui c'è un qualche cosa da svelare ok poi vi dirò qual è la mia personale chiave di lettura che suggerisco sempre ai miei quindi vi leggete queste questa pagina e anche questa dove si presenta in particolar modo un'opera di de chirico che è stata dipinta nel 1917 l'anno in cui è nata la metafisica che si amano le muse inquietanti le muse erano le quelle figure mitologiche di origine divina che ispirano l'arte ok però sono inquietanti creano ansia creano preoccupazione creato creano uno stato angosciato angosciante ok interiore all'artista vediamo una prospettiva di questa enorme piattaforma di legno estremamente ripida sembra quasi vedete la questa piattaforma illuminata di un colore molto caldo ok quasi di fuoco quindi è però una una pavimentazione un piano troppo ripido per poter far stare queste questi 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 elementi cioè queste statue non sono figure umane sono manichini ok delle scatole colorate degli oggetti strani ok questo sembrerebbe quasi avete presente quella piedistallo che si sono il che solitamente si trova nel circo dove sale il leone una scatola per un bambino ok tutti questi oggetti e poi soprattutto caratteristica dell'arte di dichirico di giorgio dichirico è il il richiamo costante all'arte classica greca qui vedete che c'è una colonna che richiama appunto l'arte greca è una un frammento di una statua toccata ok di un'attività di un di un eroe greco di un personaggio di un atleta immobile però che non si può più muovere senza testa senza braccia senza gambe ok dei manichini c'è degli uomini che non possono far nulla ok guardano verso che cosa il tramonto il tramonto di che cosa in qualche cosa che è stato perduto il tra ecco il tramonto da dove viene viene dall'ombra vedete queste ombre lunghissime le ombre lunghissime quando quando avvengono durante la giornata quando il sole o sorge o tramonta questo sicuramente non è un sole che sorge guardate qui il cielo come cupo ok un cielo verde verde e giallo ok questa è la caratteristica della dei colori di dichirico colori caldi a contrasto con i complementari quindi il verde il complementare della del rosso ok quindi colori complementari e caldi c'è quando il sole tramonta le ombre lunghe ci fanno capire che ci troviamo in una dimensione uno stato d'animo interiore uno stato d'anima personale in cui sta per finire sta per terminare un qualche cosa stiamo perdendo il nostro la nostra vita il sole ok e per e fra non molto entreremo nell'oscurità nel buio nella nello sconosciuto in quello che potrebbe essere appunto l'inizio di un incubo ecco perché inquietanti vedete che l'argomento insomma è abbastanza è abbastanza forte sullo sfondo abbiamo il castello di ferrara il castello estense della famiglia d'este di ferrara quindi un castello medievale medievale rinascimentale che caratterizzava la città di ferrara e poi abbiamo alcuni elementi che ritornano sempre nella vita di nei dipinti di dichirico i portici qui che stanno in ombra le statue greche vi ho detto e poi dei degli enormi alto forni quindi delle torri a ferrara ci sono tantissime torri ma queste sono teori che ricordano un po le fabbriche fabbriche che producono armi che producono diciamo oggetti bellici e poi una torre una torre che potremmo ritrovare un faro ecco un faro che potremmo ritrovare in riva al mare una torre ma anche un punto di riferimento questi sono gli elementi che ritorneranno sempre in tutti i dipinti di dichirico quindi le pagine sono 365 e 364 queste ve le studiate bene ok date poi a vedere nel dettaglio che cosa spiega allora adesso vi illustro che cosa ho preparato nella board che vi aiuterà a comprendere ad a conoscere questo tema che appunto la media fisica vi ho messo un video questo lo dovete guardare tutto perché a un certo punto un video storico cioè presenta dei documenti storici in bianco e nero con delle immagini vere della prima guerra mondiale e in cui a un certo punto c'è un'intervista a giorgio adichirico giorgio adichirico parla ok vedere vedrete che lui è estremamente imbarazzato a parlare davanti a una telecamera perché per lui era una cosa insomma un po che gli creava imbarazzo ok però si si concede a questa intervista e spiega come è nata la metafisica quindi la metafisica spiegata da dichirico cioè quello che la spiegata era già grande dichirico era giovanissimo all'epoca nel 1917 e spiega quello che vi ho accennato prima cioè che nasce nella guerra di trincea ok ne vediamo soltanto un pezzettino poi poi lo guarderete insieme mi raccomando scrivete sempre al lato i commenti ok scrivete sempre commenti perché così noi possiamo dialogare posso comprendere che voi state seguendo la lezione vi invito a scrivere sempre i commenti al lato ok allora ne vediamo un pezzettino su tutti i fronti la guerra del 1915 18 fu un'allogorante guerra di posizione il tremendo stilicidio della vita di trincea non colpiva unicamente il corpo dei soldati ma anche il loro animo il loro equilibrio nervoso e psicologico la medicina militare dovete affrontare quasi del tutto impreparata una nuova serie di casi clinici per la prima volta si cominciò a parlare di trauma da bomba di trauma da vita di trincea si cercò di provvedere a questi nuovi problemi il primo ospedale militare in europa per malattie nervose dovute alla guerra sorse nel 1916 proprio nelle retrovie del fronte italiano in questa villa del seminario posta a pochi chilometri da ferrara divenuta un grande centro ospedaliero tra i molti soldati negenti in questo ospedale ci furono nell'anno 1917 il soldato semplice giorgio de chirico e il soldato semplice carlo carrà da questo incontro di due fanti che erano due grandi pittori nacque la scuola metafisica uno degli episodi fondamentali della storia artistica del novecento destinata a modificare gli sviluppi dell'arte non solo italiana ma europea villa del seminario ecco qui l'ospedale dove si sono incontrati i due artisti voi continuate a vedere tutto il video vedetelo tutto io vi ho fatto vedere soltanto la parte ok poi vi ho messo quest'altro video ecco questo invece dovete fare un esercizio quando lanciate questo video che c'è una musica estremamente coinvolgente un po diciamo potremmo dire anche un po angosciante e misteriosa si vedono semplicemente una carrellata una serie tutti i dipinti di de chirico ok svolti in quegli anni voi vi prendete un tacquino ok voi vi prendete una penna e mentre guardate il video iniziate a scrivere tutto ciò che vedete tutto ciò che riconoscete ok quindi vedete una statua scrivete una statua vedete una fontana una fontana un albero un sole delle bandiere al vento un treno ok voi scrivete tutto quello che riuscite a riconoscere fino alla fine del video poi di conseguenza andate a fare una un'analisi di quello che è uscito fuori e vi ritroverete quali sono i soggetti di tutti i dipinti di de chirico scoprirete che tutti i dipinti si svolgono in uno stesso luogo un luogo che non cambia mai in un tempo che non cambia mai cioè scoprirete che tutti i dipinti di de chirico si svolgono a ferrara una città fantasma del medioevo ok in cui lui si è bloccato un po avete mai visto ecco questo per un mio alunno che è appassionato di racconti fantasy come per esempio harry potter quando harry potter viene catapultato in una dimensione entra nel quale avete presente che nella serie di harry potter sto parlando della serie televisiva ma anche diciamo quella narrativa tutti i dipinti presenti all'interno del castello ma anche giornali le immagini si muovono ok una cosa che potrebbe essere appunto irreale cioè non è non è vero che i personaggi dei dipinti si possono muovere o parlare però in quella condizione magica può succedere e a volte capita che questi personaggi si trovano in mondi irreali ok un'altra serie in cui si trova un mondo capovolto è un'altra serie che piace molto tagliare ai nostri giovanissimi in cui ci sono dei ragazzi che si trovano in un mondo inverso in un mondo capovolto ok decisamente più pericoloso oscuro in cui ci sono dei mostri ok il capovolto non dico il nome ma avete capito di cosa sto parlando allora quindi fate questo esercizio per capire quali sono i soggetti presenti nei dipinti di De Chirico ne vediamo soltanto una piccola parte e e e e e e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alcuni elementi, il treno e le statue greche. C'è un perché di questi elementi nei dipinti di Dechirico. Vanno compresi, vanno capiti. Allora, entriamo nella mia lezione. Adesso facciamo un approfondimento, ok? Quindi adesso è essenziale che voi scriviate anche i commenti ai lati. Ecco, io lo metto un po' così in modo che compare la barra dei commenti. Va bene? Quindi qui, io adesso, durante la lezione state attenti perché scriverò anche qui nei commenti. Dovete scriverla anche voi durante questa lezione. Quindi questa volta voi dovete scrivere i commenti per seguire questa lezione. Allora, innanzitutto dobbiamo capire come nasce la parola metafisica. Perché metafisica è una parola che esiste prima di Dechirico, ok? Già esiste. Perché deriva da un concetto filosofico, dalla filosofia greca. La metafisica addirittura nasce in Grecia. Ecco qui. Perché? Ecco qui il connesso con le statue greche. Perché anche, fra l'altro, intanto la metafisica è una filosofia, una scienza, ok? Filosofica, uno studio che facevano i greci, ok? Quello che potremmo chiamare appunto un percorso filosofico di ricerca. Secondo Aristotele, la metafisica studia le cause e i principi primi. Studia l'essere in quanto essere. Studia la sostanza. Studia Dio e la sostanza immobile. Cioè quella che è sempre esistita. Tra queste la definizione più importante è forse la seconda. La metafisica aristotelica. Studia l'essere in quanto essere. Cioè studia la natura umana, ok? La metafisica è un grande punto interrogativo. In cui gli artisti dipingono un loro stato d'animo. Non si dipinge ciò che si vede. Non si dipinge ciò che si vuole. Si dipinge ciò che si è. Un enorme. La condizione dell'anima che è stata sconvolta dall'orribile guerra, ok? È un rebus. È un enigma. È un mistero, ok? Allora, per poter spiegare questo, uso per la prima volta la parola rebus. E qui inizia il gioco. Allora, io solitamente, per spiegare la metafisica, invito i miei alunni a risolvere dei rebus. Ok? Cos'è il rebus? Il rebus è un gioco di enigmistica, in cui ci sono un disegno con delle lettere, in cui si percepisce che sotto c'è una parola da comprendere, e bisogna capire qual è la parola misteriosa, ok? Allora, per risolvere un rebus, chi lo crea mette sempre delle lettere. Queste lettere, scusate, mette sempre delle lettere all'interno del disegno, e poi mette dei numeri. I numeri, tra parentesi, sono la quantità di parole e la lunghezza delle parole. Quindi qui ci sono tre parole, una, due, tre, la prima di quattro lettere, la seconda di cinque lettere, la terza di otto lettere. Queste compongono una frase, la frase è misteriosa. Allora, andiamola a scrivere, io la scrivo qui nei commenti, ok? Quindi seguitevi insieme a me. Il primo lo risolvo io, gli altri li risolvete voi e li dovete scrivere nei commenti, ok? Quindi il primo rebus, scrivo, primo rebus, ok? E questo. Allora, noi abbiamo le prime due lettere che sono BE, ok? Dopo BE abbiamo un oggetto, un oggetto su cui sono posizionate le due lettere, che è appunto un remo, quindi scriverò remo, ok? Quindi la prima lettera, una volta che abbiamo scritto BE e remo, abbiamo già trovato la prima parola. La prima parola è BERE. Una, due, tre e quattro. BERE. Poi inizia la seconda parola con passata cinque lettere, cioè MO, ok? Rimane RE, la parola remo si taglia, ok? Anzi, potremmo anche fare così. Quindi c'è il taglio con l'inizio della seconda lettera MO, ok? E abbiamo nuovamente le due lettere LT, quindi LT, ok? Però ne serve ancora una, serve ancora per completare la seconda parola di cinque lettere, quindi qui ne abbiamo ancora solo quattro, dobbiamo attaccare, dobbiamo capire qual è il suggerimento dato dal disegno. Le due lettere LT stanno su che cosa? Su un uccello, ma in particolare sulle, bravi, sulle ali dell'uccello, quindi A, LI, ok? Come vedete ho staccato ALI, perché abbiamo già composta la seconda lettera, quindi BERE, MOLTA, ecco la seconda parola, MOLTA. E poi iniziamo l'ultima, LI. Si continua con il proseguo della parola che è stata tagliata, ALI, LI. Abbiamo nuovamente le due lettere maiuscole presenti nel disegno, cioè MO, LIMO, e poi abbiamo un piccolo anatroccolo che esce fuori dall'uovo. Quindi un piccolo anatroccolo che esce fuori dall'uovo è appena nato, ok? Siccome è un pulcino, è nata, è nata la paperella, ok? Quindi nata, ed eccola l'ultima parola. La soluzione del rebus è BERE, MOLTA, LIMONATA, ok? Eccolo qui, il primo, la soluzione del primo rebus, BERE, MOLTA, LIMONATA, ok? BERE, MOLTA, LIMONATA, ok? Allora, vi ho spiegato come si risolve il rebus. Qui ce ne sono altri. Ecco ancora uno. Vi ho aiutato perché qua stiamo sempre nello stessa parola, quindi questa è la stessa parola, ok? Guardate dove sta. Le due lettere stanno su una parte del suo vestito e sono due parole, una da quattro e una da nove. Vi invito a scrivere, scrivendo anche il vostro nome, chiaramente comparirà... Se voi scrivete comparirà il vostro nome. Quindi vi invito a fare una gara. Chi scrive per primo la soluzione? Anche qua. Qui abbiamo anche due parole. Vi suggerisco soltanto questa. Questa si chiama Erma. Era, appunto, una sorta di altare sacro dell'antichità dove si facevano dei sacrifici. Abbiamo, appunto, un Erma, ok? Poi la B. Qui ci sono due pesci, ma sono due pesci particolari, hanno un nome particolare, si trovano nei fiumi. E più ha un tavolino che sta facendo, sta mangiando, quindi ha sul formaggio, ha un po'. Trovate la parola voi. Che fa il topo? Fa rosicchia. Rosicchia, però la parola è molto più corta. Ha rosso, ha rosso il formaggio. Quindi la parola è rosso, qui, misteriosa. Questa è un'attrice famosa, di cognome Argento, è la figlia del famoso e inquietante regista italiano di film horror. Fate per aiutare i vostri genitori. Qui abbiamo nuovamente questa parola che stava anche qui. Ok? Quindi andate a scrivere i risultati. Allora, quindi che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che attraverso questo gioco del Rebus si capisce, e qui adesso qui lo nascondo un attimo i commenti, abbiamo capito che la pittura metafisica nasconde misteriosamente una frase. E qui viene, la frase non è tanto, diciamo, associata al dipinto. Il titolo dei quadri di De Chirico non sono così facili da comprendere. È appunto un mistero. Io vi suggerisco questo. Quindi guardare i dipinti di De Chirico, di Carrà e di Savinio, come se fossero dei Rebus da risolvere. Questo non è 47, ma è 4 e 7, sono due parole, ovviamente, non c'è la virgola. Adesso vi devo parlare un po' della vita di De Chirico. Allora, è del fratello Alberto De Chirico, cioè, scusate, Andrea De Chirico, cioè Alberto Savinio. Nei dipinti di Giorgio De Chirico è sempre, quasi sempre presente un treno e un orologio. La città di Ferrara, un tempio greco, vedete qui il tempio greco, l'orologio che segna sempre la stessa ora, ok? L'ora del tramonto, un'ora tarda, con delle ombre lunghe, delle prospettive sbagliate, quindi lui sapeva dipingere bene, ma le prospettive sono deformate, come se noi ci troviamo in una realtà non reale, ok? Un cielo sempre verde, quindi non un cielo azzurro, ma un cielo verde, vescica, un cielo acido, contrasto con, appunto, sempre dei colori caldi, con il loro complementare, il rosso, i colori neutri, con un colore complementare. Il treno. Allora, innanzitutto, che cosa rappresenta il treno? Il treno è il legame, l'aggancio con suo padre. Il padre di De Chirico era un ingegnere ferroviario, quindi lui progettava treni, lavorava per le ferrovie dello Stato, e proprio per questo lavoro spesso viaggiava in giro per le ruova e si portava con sé la sua famiglia. Quindi Giorgio De Chirico e Andrea De Chirico viaggiarono molto. Innanzitutto, loro che sono italiani non sono nati in Italia, sono nati in Grecia. Loro sono greci, ok? Di nascita greca, anche se di origine italiana. Ecco perché è riferimento all'arte greca, ecco perché è riferimento alla filosofia greca, cioè la metafisica di Aristotele. E il treno, invece, è riferimento al padre, un padre che è andato via. Un altro collegamento che si potrebbe fare con il treno è il treno che l'ha portato in trincea, lo stesso treno che ha attraversato le campagne ferraresi per portarla all'ospedale. Quindi questo elemento gli richiama ben due aspetti della sua vita, che hanno caratterizzato la sua vita, cioè il rapporto con il padre e il rapporto con la guerra. Ora, adesso, il secondo modo per spiegarvi la metafisica è che la metafisica è l'esatto, l'esatto contrario del futurismo. Se abbiamo compreso bene, avete eseguito bene l'edizione sul futurismo, e cosa volevano ottenere i futuristi? Ok? Cioè distruggere l'arte classica, distruggere musei, biblioteche, orientarsi verso il futuro, distruggere il passato, perché loro vogliono creare i futuristi, vogliono creare con l'azione, con il movimento, vogliono creare una nuova Italia, un'Italia che è orientata al futuro, all'assoluto, al dinamismo, ok? E infatti qui che cosa abbiamo? Vi ho fatto uno schema. Ciò che, infatti il futurismo è nato prima, il futurismo di 1909, poi Carlo Carrà passa alla metafisica nel 17, qui ancora la guerra non c'era, quando inizia la guerra ecco che nasce la metafisica. Sono entrambi italiane, quindi qui possiamo fare, è il discorso delle similitudini e differenze, ok? Allora, questa, io vi lascio la scheda, ma voi ve la dovete studiare ovviamente, è uno schema che vi dovete ricordare per riuscire a centrare il futurismo a differenza della metafisica. Allora, il futurismo è orientato appunto al futuro, quindi immaginate un uomo che corre verso il futuro. La metafisica è orientata al passato, guarda dietro di sé, si volta indietro, quindi mentre questo guarda in avanti, questo guarda indietro, quindi scruta, immobile, gelito, pietrificato, immaginate, ricordate tutti i dipinti di De Chirico, verso il passato, ok? I futuristi sono a favore della guerra, i metafisici contro la guerra, perché è nata proprio in un ospedale militare. Il futurismo inneggia la velocità, immobilità, il dinamismo, l'uomo che corre, vi ricordate la stato di Boccioni, figure, l'uomo che corre, che è presente, forme uniche nella continuità dello spazio, immobilità. I personaggi dei dipinti di De Chirico sono immobili, fermi, inchiotati a terra, non si possono muovere, cioè rappresentano un uomo manichino che non ha la capacità di prendere una posizione, di prendere in mano la propria vita e cambiarla. Ma i futuristi sì, loro cambiano la vita, sono determinati a trovare il loro futuro. Gli uomini della metafisica non sanno come uscire fuori da questo stato d'animo di angoscia. Adesso tutto quanto sta cominciando a tornare, no? È tutto molto più chiaro. Dove si trovano? I futuristi si trovano nelle metropoli, città dinamiche, un enorme organismo metropolitano, urbanistico, che non si ferma mai, una città che non si ferma mai, una metropoli. I metafissi ci trovano in paesini, paesini medievali, paesini solitari, come le nostre strade di questi giorni, in cui siamo tutti rinchiusi dentro casa, non sappiamo cosa fare, la paura di questo virus che ci sta uccidendo, ok? E noi non possiamo uscire in città deserte. Ecco, noi stiamo vivendo in questi giorni uno stato metafisico. I futuristi sono una folla inferocita, ok? Che distrugge tutto. Vi ricordate il disegno che abbiamo fatto insieme? La rivolta, questo cuneo rosso di persone che corre e distrugge. Nella metafisica c'è la solitudine. Si vedono nei dipinti di De Chirico sempre due personaggi, due persone, due persone insieme in lontananza, quasi all'orizzonte con delle ombre lunghe. Che sono queste due persone? Non una singola persona, ma due personaggi. Lo potete vedere nel video che vi ho detto di osservare tutto per scrivere che cosa voi riconoscete. Ci sono questi due personaggi in lontananza, oltre al treno, oltre alla torre, oltre a quant'altro. Sono i due fratelli. Sono Giorgio e Andrea. Cioè Giorgio e Alberto Savini. Giorgio De Chirico e Alberto Savini. I due fratelli che guardano insieme, affrontano insieme questa tragedia. Potrebbero essere anche Giorgio De Chirico e Carlo Carrà, cioè i fondatori. Ma a me piace più leggerli, interpretarli come i due fratelli uniti insieme dallo stesso destino. Il futurista è un uomo sicuro di sé, ok? È un uomo che prende in mano la sua vita. L'uomo metafisico è perso, non sa cosa fare, ok? In un tempo, ecco qui non ho messo il fattore tempo, lo potete aggiungere voi nel numero 8, aggiungetelo a voi, anzi qui lo scrivo poi nei commenti, lo scrivo nei commenti, numero 8, il tempo, il tempo futurista è frenetico, è veloce, immaginate come un orologio in cui le lancette girano all'impazzata, il tempo futurista è immobile, fermo, quindi un tempo fermo, un orologio bloccato, come quando succede, avete presente un incidente, capita un incidente e gli orologi si bloccano, si fermano a quell'ora, a quel preciso momento, ecco, gli orologi presenti nei dipinti di De Chirico sono orologi immobili, fermi, bloccati, la vita si è fermata in quel momento e non riesce più a uscire, ok? il futurismo è un uomo che corre, la metafisica è un uomo manichino, un uomo bloccato, ok? non può fare nulla per uscire da quella condizione, ok? non sa come fare, servirebbe una terapia interiore, la psicanalisi. Allora, adesso vi spiego un dipinto, il dipinto è il canto d'amore, ok? Vi aiuto a risolvere questo rebus. il canto d'amore è uno dei dipinti più famosi e più belli di De Chirico è meraviglioso in effetti, è stato dipinto nel 1914, quindi prima che nascesse con Carrà la metafisica, quindi prima del 1917, lui già dipingeva così, De Chirico già dipingeva in questo modo. Poi, dopo, con Carrà e Savino hanno deciso di dargli un nome a questo e l'hanno chiamata appunto metafisica. Tutti i dipinti di De Chirico non sono molto grandi, sono tutte tele molto piccole, non sono tele gigantesche. Andiamo a vedere quali sono le cose che ha dipinto. Allora, ha messo il portico, ok? Che ricorda sempre la città di Ferrara, questa città medievali, ok? Poi ha messo un un terreno, partiamo dal fondo, ok? Il cielo sempre di un colore in reale, un treno, e il treno abbiamo detto che era il padre, il rapporto con il padre, ok? Che faceva appunto, lavorava nelle ferrovie. Poi abbiamo un guanto, quei guanti di gomma che si usano in casa quando la mamma deve lavare i piatti si mette o deve pulire casa, deve fare le faccette di casa si mette i guanti di gomma appesa a un muro, quindi a qualcosa di solito che dà sicurezza, appuntata, ferma lì, accanto a loro, ferma, accanto a loro c'è la madre. Quindi il treno che invece va via lontano da loro, si crea una distanza col padre, e invece la madre sta lì, ferma, non si muove, sta lì per loro ed essa è vizievole verso di loro, cioè li ama, ok? Quindi il rapporto, il guanto rappresenta la madre, il treno rappresenta il padre. E qui abbiamo altri due elementi, una palla, allora una palla da gioco piccolo, non è una palla da calcio in cui si gioca in tante, è una palla in cui si gioca in due, e che cosa rappresenta? Appunto, il gioco col fratello, la vita ludica, la vita dell'infanzia, l'infanzia passata di quel fratellino, quindi questo rappresenta Andrea, cioè il fratello di De Chirico, ok? E qui abbiamo lui, questo, ovviamente chi manca, manca De Chirico. Questo è un frammento di una statua greca che si chiama l'Apollo del Belvedere, ok? L'Apollo del Belvedere. È un frammento, si riconosce dalla capigliatura di questa statua greca, dopo ve la metto nella borda, non l'ho aggiunta ma ve la posso aggiungere, l'Apollo del Belvedere che si trova a Roma attualmente nei musei vaticani questa statua. È un frammento. Chi è Apollo? Apollo era il figlio di Zeus, quindi, ed era la divinità che presideva le arti. Lui suona, Apollo suona l'arpa, ok? È il dio del sole, Apollo è il dio del sole, ok? E infatti, guardate qui la luce che illumina, no? È il dio delle arti, figlio di Zeus. Chi è? È Dechirico. Cioè, lui è il figlio che si dedica all'arte. È il figlio di Zeus, cioè del padre, che per lui il padre è il suo dio, il suo punto di riferimento, che si dedica, appunto, presiede le arti, si dedica all'arte. È appunto Dechirico. Allora, è il canto d'amore che cosa rappresenta il canto d'amore, ecco svelato in Rebus, è un omaggio, un ricordo perso dell'amore che ha per la sua famiglia, la madre, il fratello, il padre. Ok? Potevate comprendere questo? Serve un po' di psicologia. Le musiche inquietanti, ve l'ho spiegato prima, questo è il quadro del 17, il dipinto, manifesto dell'arte metafisica. E qui abbiamo un dipinto di Carrà, la musa metafisica. Ecco qui, qui, questo è un luogo di una cartina geografica dove sono morte tantissime, e l'Istria sarebbe, a confine tra l'Italia del nord, dove c'è il Venezia, per intenderci, è l'inizio dei paesi dell'Esta. Ok? Qui ne sono morti tantissimi tantissimi italiani, tantissime persone, l'hanno fucilata e buttata dentro delle fosse. Ecco, anche qui c'è una croce, c'è una sorta di piramide di legno colorata che potrebbe ricordare quella che usano i bambini, c'è una donna che gioca a tennis, però è un manichino, quindi diciamo qualche cosa che si è la dimensione del gioco che si è bloccato, il gioco è finito, c'è la guerra, non si può più giocare, e inizia la tragedia, si è persa quella spensieratezza interiore che noi ci portiamo da piccoli che è l'aspetto gioioso dell'infanzia. Dopo la guerra si cresce, non si può essere più bambini, vi lascio l'ultimo rebus che è questo, questo lo facciamo insieme, ok? Allora, perché questo sarà la tavola grafica, il disegno che vi chiedo, uno dei disegni che potete fare, vi chiedo di fare due cose durante questa lezione, uno è riprodurre nuovamente un dipinto che io vi ho messo nella board che serve da esempio per poi dare a voi la possibilità di creare voi un nuovo dipinto, quindi voi dovete creare un dipinto metafisico, come abbiamo fatto il dipinto futurista, io vi do i suggerimenti per creare un'opera metafisica partendo da un rebus il rebus che ho scelto è questo quindi che cosa dovete fare prima vi trovate un rebus ok? trovate un rebus e questo rebus lo dovete trasformare in un dipinto in un dipinto questo è in bianco e nero quindi lo dovete colorare colorare mettendo le ombre mettendo i colori di dichirico potete chiaramente trasformarlo per trasformare un rebus in un dipinto di dichirico ok? allora andiamo a risolverlo insieme la soluzione io ve la scrivo qua questa ve la scrivo ok? abbiamo le due quindi diciamo questo sarebbe il secondo rebus diciamo ultimo rebus ultimo rispetto a questa lezione ricordate che dovete risolvere qui nei commenti gli altri quindi mi aspetto che voi scriviate abbiamo no ok? e nero eccole qui e poi abbiamo una nave ok? na aspetta dobbiamo fare così perché la prima lettera l'abbiamo già risolta tre una prima parola di tre lettere è non quindi dopo si prosegue con ave nave ok? poi abbiamo nuovamente attenzione che qui il rebus si fa complicato perché non esattamente si deve mettere sempre prima le lettere in grande ma a volte si può partire con l'oggetto quindi andremo a mettere re di remo quindi non avere cinque lettere non avere remo adesso possiamo mettere la l ok? poi da qua passiamo a questo vedete non andate qui dovete eseguire un ordine diciamo una sequenza qui abbiamo lo suggerisce qui la la teiera abbiamo una tazza una tazza di tè quindi abbiamo tè cinque lettere molte tè ok? e poi abbiamo la p tra il tè e la s c'è nuovamente prima l'oggetto che è una rete ok? facciamolo staccato rete e poi abbiamo la se quindi qual è la soluzione? quindi te pre rete s se pretese quindi la soluzione uguale non avere molte pretese ecco la soluzione del rebus non avere molte pretese ok? adesso usciamo da questa lezione quindi mi raccomando scrivete i commenti degli altri rebus quindi mi aspetto che andiate a risolvere voi questi rebus uno due tre ok? vi ho messo ancora un altro di rebus di rebus anche questo lo potete risolvere ok? scrivete qui nei commenti vediamo chi fa prima qui qui vi ho messo un altro video che spiega con altre parole la pittura metafisica è un sito che di questo giovane critico d'arte che ha affrontato tantissimi argomenti di storia dell'arte abbastanza bravo diciamo bravo no? abbastanza bravo il canto d'amore la spiegazione del canto d'amore attenzione sicuramente nel video lo spiegano in un altro modo rispetto a come ve l'ho spiegato io l'interpretazione che ho dato io è un'interpretazione mia personale che per me io ritengo che il canto d'amore lo leggo l'ho sempre letto in questo modo però non è detto che io non l'ho letto da diciamo in un in un saggio da come interpretazione di qualche critico d'arte è una mia interpretazione ok? il canto d'amore che vi ho spiegato cioè l'omaggio alla famiglia ecco il compito allora il compito scritto oltre al test quindi vi fate tutta la lezione vi svolgete il test ok? e poi vi fate questo compito che dovete fare nel compito? nel compito dovete creare la vostra galleria d'arte allora io mi invito a comprare dei quadri ok? chiaramente comprare in senso diciamo così non non reale potete acquistare cinque opere d'arte metafisiche ok? vi andate a fare una ricerca vi andate a scegliere nel mondo degli internet cinque dipinti di De Chirico ok? dopo aver ascoltato le video lezioni e visualizzato tutti i contenuti della board metafisica crea una tua galleria privata ti do la possibilità di scegliere cinque opere di De Chirico ok? che dovete scrivere? dovete presentarle cioè ognuno presenta la propria galleria e dovete qui scrivere nome cognome classe quindi qui mettete il vostro nome cognome la classe e poi scrivete la mia galleria d'arte metafisica ok? questo è l'esempio dovete mettere il titolo dell'opera dove si trova l'opera l'anno la tecnica le misure una breve spiegazione del quadro mettete anche l'immagine quindi andate a fare un copy and colla salvate l'immagine mettete l'immagine del dipinto e poi potete anche aggiungere se non riuscite a trovarlo un video che parli di quel quadro o il sito del museo dove sta il quadro ok? potete anche aggiungere un link ok? vi ho già messo qui i cinque punti da riempire quindi quella è la ricerca che dovete fare dovete andare a cercare cinque opere di richirico e mi compilate questa scheda e la aggiungete alla board compiti di arte questo è il compito che vi lascio e poi la tavola grafica che disegno vi chiedo di fare? allora ho preso questo dipinto qua scusate ho preso questo dipinto qui ok? questo dipinto si chiama Enigma della partenza 1914 quindi è un dipinto classico di richirico l'originale ok? e io che cosa ho fatto? ho preso un quadro di richirico quindi sono partito da un'opera di richirico ok? e l'ho trasformata guardate un po' che è successo l'ho fatto diventare un rebus guardate torno indietro vedete prima era così adesso è così ho messo le lettere i numeri cioè i numeri che corrispondono poi alla frase alle lettere alla frase ho sostituito la statua con il remo la nave già ce l'avevo la nave già c'era ok? questo qui c'era un bastone io l'ho sostituito guardate che ho fatto ho sostituito con la tazza di tè qui c'era un pavimento a rete che ho fatto diventare la rete ok? e vedete che è il rebus che abbiamo risolto prima non avere molte pretese eccolo qua quindi ho fatto diventare un rebus cioè un dipinto di richirico un rebus allora voi potete fare due cose quindi praticamente io vi chiedo di fare due disegni ok? un disegno è riprodurre questo oppure potete decidere voi di creare uno quindi di creare uno nuovo voi potete mi aspetto che voi create da soli un rebus metafisico ok? quindi la tavola sarà crea un rebus metafisico un rebus metafisico come dovete fare prima vi andate a scegliere un rebus quindi vi cercate prima un rebus e poi lo trasformate con i colori di dichirico mettete sempre diciamo le indicazioni per risolvere questi punti sono due parole una da 5 e l'altra da 8 e poi lo mettete nella nella board dei compiti quindi andate a inserire tutto nella board dei compiti ok? allora la lezione è terminata anche questa qui vi faccio un annuncio la prossima settimana quindi nella settimana successiva a questa farò un live metterò nel calendario un live perché vi devo spiegare una un'applicazione un'applicazione che in realtà noi abbiamo già usato è l'applicazione dove andremo a inserire le nostre mani unite contro il coronavirus quella pagina internet interattiva condivisa utilizzeremo quell'applicazione però ve la devo spiegare per fare un'attività insieme quindi io farò un live in cui devo essere certo che voi capiate che cosa vi sto per chiedere perché vi lancio vi lancerò un'attività quindi non è una video lezione ma vi lancio un tema che voi dovete affrontare insieme vi dovete aiutare tra di voi ok dovete creare dei gruppi di lavoro e lavorare attraverso questa pagina nel planning settimanale saprete quando ci sarà il live nella terza ok nella nostra classe vi dico subito che vi annuncio che sarà comunque il giovedì perché io ho scelto il giovedì quindi aspettatevi che nel prossimo giovedì ci sarà un live presumibilmente di mattina ok allora vi saluto e la lezione è terminata ciao ragazzi e buon fine settimana grazie a tutti